Il mercato contadino è un luogo dove innanzitutto si sta bene, dove si vivono le tradizioni contadine e in questi giorni proprio si festeggia andare incontro a marzo per scacciare il lungo inverno e quindi in una giornata come questa non poteva che essere più propizia per celebrare questo rito della stagionalità scacciare il lungo inverno e andare incontro alla primavera veniva celebrata in tutte le campagne anche percotendo barattoli, tamburi eccetera proprio perché il rumore doveva scacciare l'inverno gli spiriti dell'inverno erano scacciati utilizzando qualunque strumento, qualunque forma che facesse rumore che facesse casino in qualche modo per cui il mercato contadino tende proprio a riproporre tutte quelle manifestazioni della tradizione contadina che segnano il passaggio delle varie stagioni segnano la stagionalità, il ritmo delle stagioni questo rituale che veniva fatto durante i primi giorni di marzo e gli ultimi di febbraio soprattutto nelle nostre campagne e questo veniva fatto con dei canti, con dei riti muovendo appunto le latte come dicevano una volta quindi questa cosa è particolare e molto bella e poi la musica porta sempre vita, porta sempre passione, insomma curiosità quindi la gente vede che ti guarda, ti osserva qualcuno cantica, altri iniziano dei piccoli balli, cose di questo genere quindi la musica è vita, come è vita oggi questa città di Mantua che con questo sole, con questi colori è veramente qualcosa di incredibile Da alcune settimane nel mercato contadino di Mantua vengono riproposte le arance di libera terra e del consorzio di ciaculli sono realtà molto radicate che sono impegnate da tantissimo tempo nella lotta alla mafia perché coltivano terre strappate dalla mafia con tutti i problemi che queste lotte possono comportare sono arance quindi che hanno una qualità in più, hanno la vitamina L, quella della legalità oi vita, oi vita mia, oi corei, e chi stu gore, si stu do, o primo amore, o prima e l'ultimo sarai per me grazie a tutti i problemi che stai